Cosa succede in Venezuela, in paese sotto aggressione, mediatica, economica? Qual è la situazione, qual è la risposta del governo venezolano? Una guerra diplomatica, una guerra mediática e comunicacional. Sin embargo, il paese la sta affrontando con una gran serenità. Il governo ha dei recursos economici e dei recursos humani con cui affrontare questa crisi. La guerra economica se ha fondamentato esencialmente en la baja de los precios del petróleo. Pareciera que están estabilizados en este momento en 40 dólares. 38, 39, 40 dólares. Nosotros logramos resistir en 2009 con una guerra economica similar y el petróleo había bajado a 30 dólares. Estamos preparados incluso para resistir una situazione a los 30 dólares. Lo más importante, sin embargo, es el nivel de conciencia del país. Es un nivel de conciencia que se puede medir a través de varias vertientes. Una primera ha sido convocada a la violencia. O sea, ha habido actos de terrorismo para que il pueblo asuma una situazione di violenza. E il pueblo se ha cuidado di questo per non dar pie a che internacionalmente se diga che c'è un caos dentro del paese. In questo momento ha molta serenità. Il pueblo se ha integrato totalmente a la supervisione e al controllo del desabastecimento, al controllo delle imprese che stanno acaparando i articoli di prima necessità. E il governo sta respondendo di maniera solida, molto convincente. Sta tomando medidas che stanno ajustando a la lei. E sta incautando la mercancia che si vuole extraere del paese per la via del contrabando. O che ha sido acaparata in almacene di empresas privati. In questo momento sono deteniti in il paese. In questo momento sono deteniti in un paese. In questo momento sono deteniti in un paese. In questo momento sono deteniti in un paese di una red di farmacias importanti di vendita di articoli medici. E sono anche incautati diversi prodotti di empresas che si sono trattati di distribuzione di alimenti. Abbiamo asumito dal paese, dal governo, la distribuzione di alimenti. E il controllo conjuntamente con il popolo e con la expresione civico-militar che sostiene al paese. Questa guerra che non è nuova e che non termina oggi, che non va a terminare per alcuni giorni giorni. Abbiamo resistito e con la misma dignità e con il mismo valor con cui Cuba derrotò a los Estados Unidos. e lo acaba di dimostrare il riconoscimento che Obama ha expresato pubblicamente. In questa maniera, con la misma dignità di Cuba, ci siamo avanti a qualche situazione che si possa essere trattato contro questa alternativa socialista al capitalismo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.